voglio darvi sette consigli davvero utilissimi che sono frutto dell'esperienza che ho maturato in questi anni e che sono sicuro aiuteranno molti di voi soprattutto se siete alle prime armi con l'assemblaggio del pc iniziamo subito con il primo consiglio controllare che tutti i componenti funzionino prima di iniziare il montaggio all'interno del case non c'è infatti cosa più frustrante installare tutte le componenti nel case per poi accorgersi che magari la cpu non funziona o c'è un problema con la scheda madre e quindi dover rismontare tutto il modo migliore per controllare che tutti i componenti funzionino prima di iniziare il montaggio all'interno del case è quello di utilizzare la scatola della scheda madre ci poggiate sopra la vostra nuova motherboard ed iniziate a montare tutti i componenti quindi processore dissipatore ram scheda video ssd ed alimentatore accendete e vedete se tutto fila liscio se non ci sono problemi allora a quel punto procedete con installare i componenti all'interno del case come accendo il pc se il tasto di accensione sta nel case allora in molte schede madri è presente un tasto accensione specifico per accendere il computer senza usare il tasto del case nel caso in cui la vostra scheda madre ne sia sprovvista il consiglio che vi do è quello di accenderlo utilizzando i due pin della scheda madre a cui va collegato il cavo del pulsante di accensione del case se non sapete quali sono i pin corretti basta cercarlo nel libretto di istruzione della vostra scheda madre una volta trovati prendete un cacciavite e poggiatolo in modo che tocchi entrambi i pin per alcuni secondi ed il pc si accenderà allo stesso modo lo potrete spegnere questo consiglio in passato mi ha fatto risparmiare tantissime ore di lavoro andiamo avanti con il secondo consiglio se non avete esperienze di mestichezza vi consiglio di non usare avvitatori elettrici per il montaggio ma di avvitare manualmente per il montaggio di qualsiasi componente del pc non serve infatti serrare molto le viti se utilizzate un cacciavite manualmente riuscirete ad avvitare senza stringere eccessivamente cosa che invece non si riesce a fare facilmente con gli avvitatori elettrici ragazzi la scheda madre è un componente delicato ed è fondamentale non serrare troppo le viti se le serrate troppo potrebbero accadere due cose si potrebbe subito rompere o crepare la scheda madre nei pressi dei fori di avvitamento oppure potrebbe rompersi in un secondo momento magari quando andremo a smontare un pezzo per sostituirlo in passato mi è anche capitato di vedere componenti avvitati così tanto da saldarsi con il tempo alla scheda madre in sintesi avvitate manualmente senza serrare eccessivamente le viti visto che parliamo di serraggio approfitto per darvi un altro consiglio i componenti che richiedono l'utilizzo di quattro viti per il fissaggio andrebbero serrati utilizzando la tecnica dell'incrocio prendiamo come esempio un dissipatore al liquido iniziamo dalla vite superiore sinistra ed avvitiamola giusto un po qualche giro di cacciavite poi passiamo alla vite posteriore destra anche questa avvitiamola poco poi passiamo a quella in alto a destra ed infine a quelle in basso a sinistra come potete vedere avvitiamo utilizzando la tecnica dell'incrocio come se volessimo seguire una x ripetiamo il procedimento dell'incrocio avvitando un po per volta le quattro viti finché non saranno serrate completamente questa tecnica si usa per due motivi il primo è che in generale garantisce un migliore serraggio del componente alla scheda madre ma soprattutto evita che ci siano eccessive sollecitazioni sulla motherboard se per esempio avvitassi la prima vite in alto a sinistra completamente prima di serrare le altre avremmo una flessione della scheda madre in quel punto eccessiva e nel momento in cui procediamo con l'avvitare le altre viti potremmo danneggiarla andiamo avanti con il terzo consiglio montare le ventole nel verso giusto in realtà abbiamo già parlato di questo aspetto nel video dedicato a come scegliere le ventole ma mi sembrava comunque giusto inserirlo in questa lista di consigli perché un errore è super comune come faccio a capire qual è l'orientamento delle ventole ossia qual è la parte delle ventole dove l'aria entra e quella dove esce in moltissimi modelli di ventole trovate il simbolo di una freccia che vi indica la direzione dell'aria quindi se volete capire l'orientamento della ventola basta cercare la freccia comunque nella quasi totalità dei casi la direzione è quella della parte interna della ventola esistono moltissime configurazioni e modi con cui possono essere montate le ventole nel case ne ho già parlato sul canale nel video dedicato a come scegliere le ventole ed anche in quello dedicato a come scegliere il case vi consiglio di vederli se volete approfondire l'argomento li trovate ora in alto a destra ed anche in descrizione andiamo avanti con il quarto consiglio utilizzate le fascette per il cable management soprattutto se avete un case midi tower o più piccolo vi renderete conto che lo spazio nella paratia di destra del case è limitato se poi non avete un alimentatore completamente modulare vi troverete a dover gestire molti cavi in uno spazio ristretto un consiglio super utile è quello di utilizzare fascette di plastica per intradare i cavi e magari raggrupparli in modo da fare un lavoro pulito ed efficiente le fascette costano veramente pochi centesimi e nella quasi totalità dei casi le trovate incluse dentro la confezione dell'alimentatore ed anche in quella di molti case costo bassissimo e risultato ottimo andiamo avanti con il quinto consiglio di oggi aprire la scatola del case dal basso e non dall'alto questa è una cosa che ho imparato con il tempo la quasi totalità delle persone è solita aprire la scatola del case dall'alto ma in questo modo sarete costretti a sfilare il case da sopra il che non risulta mai semplice soprattutto se si tratta di un case pesante ed anche perché le forme di protezione in polistirolo sono molto strette all'interno della scatola e a volte si fa una fatica in mane capita anche spesso di tirare direttamente dalla protezione in polistirolo il che non è mai la cosa giusta da fare quest'ultima si potrebbe rompere e vi potrebbe cadere il case dalle mani il consiglio che vi do è quello di mettere la scatola su un fianco aprire la scatola dal basso e poi sfilarla dall'alto minimo sforzo massima resa sesto consiglio leggere sempre le istruzioni del case anche se si ha molta esperienza nell'assemblaggio del pc è comunque importante leggere sempre le istruzioni del case se non lo fate potrebbe per esempio succedere di sbagliare ad utilizzare le viti di fissaggio e perdere tempo all'interno del case infatti spesso troviamo una grande varietà di viti di misure diverse ci sono per esempio quelle per il fissaggio della scheda madre quelle per il radiatore e le ventole quelle per le coperture degli slot e pci posteriori spesso trovate anche quelle per il montaggio e degli ssd eccetera vi consiglio di dare sempre un'occhiata al libretto di istruzioni per evitare di sbagliare i viti e magari spanare le sedi di fissaggio altri errori che si possono fare non leggendo le istruzioni possono essere per esempio dimenticarsi di montare i gommini antivibrazioni per gli hdd o anche cercare di aprire nel modo sbagliato il pannello frontale o laterale del case con potenziali danni al vostro cabinet insomma il libretto di istruzioni serve proprio ad evitare problemi e rotture di scatole dargli un'occhiata prima di iniziare il montaggio non costa nulla visto che abbiamo parlato di viti vi do un altro consiglio veloce ma utile una volta capito a cosa servono le diverse viti riponetele in un contenitore in modo da evitare che cadino dalla scrivania e si perdano non sapete quanti viti mi capita di trovare dentro casa perché io stesso stupidamente non faccio questa cosa ultimo consiglio montate la scheda video dopo aver attaccato i cavi sata dei vostri dischi le uscite sata infatti sono molto vicine alla scheda video e se non le attaccate prima potreste essere costretti a dover smontare la scheda video per attaccarli e fare il lavoro due volte bene ragazzi spero che questo video vi sia stato utile se non l'avete già fatto vi consiglio di vedere anche gli altri video della playlist parliamo di pc in 5 minuti in cui trovate davvero tanti consigli utili se state in procinto di assemblare o fare un upgrade al vostro pc non vi scordate di spolliciare e di attivare le notifiche per non perdervi i prossimi video ultima cosa se come me amati pc e non vi sto troppo antipatico iscrivetevi al canale ci vediamo nel prossimo video